Siamo a più di 700 iscritti in provincia di Varese, almeno nel 2021 e confidiamo che nel 2022 ci saranno ancora vici, sicuramente, governiamo nella città con più abitanti della provincia di Varese con Emanuele che è anche il diritto della provincia, governiamo a Callarate che è un'altra realtà grande, ma anche in realtà un po' più piccola, ma non meno importante. Quindi abbiamo anche il sindaco a Perno che ha fatto un ottimo lavoro e il candidato sindaco a Su Mirando perché siamo nella tornata elettorale tra un'altra.